Mi vedete sorridente perché anche oggi i numeri sono buoni quindi io sono contento di come stanno andando le cose a dispetto di tanti fattori negativi, sovrapposizioni, dati che ballano ma ne parleremo al momento opportuno. Andiamo ai dati che ci interessano molto, oggi Arezzo come ieri e come ieri l'altro quindi il terzo giorno consecutivo che non ha contagi evidenti quindi siamo a zero contagi, 83 erano i contagi ieri e ancora 83 rimangono oggi. La provincia presenta due soli contagi nuovi e quindi passa dai 567 che vi ho detto ieri a 569 contagiati. Ricordo per inciso che si tratta di due contagiati che stanno a, non lo trovo, comunque diciamo in due comuni della nostra provincia. Ha poca importanza perché è un numero comunque modesto, ristretto, assolutamente assorbibile dal nostro sistema. I due contagiati in più sono tutti e due in isolamento domiciliare il che fa passare gli isolamenti provinciali da 525 a 527. Rimangono inalterati i sei ricoverati in terapia intensiva e i 36 ricoverati in malattie effettive. I isolati della città di Arezzo invece sono 159 quindi diminuiscono rispetto a ieri, ne avevamo 163 perché risultano uscite 4 persone. Questi 159 sono come sempre 149 adulti e 10 minori. I due comuni che non ricordavo prima, che erano del Valdarno, però non volevo dire un nome per un altro, sono la Tarina, Pergine e Montevarchi che hanno un contagio ciascuno rilevato. Certo questi dati per noi sono interessanti, sono anche confortanti, ma non sono accompagnati dal numero di tamponi trattati in questi giorni. Non abbiamo l'evoluzione dei tamponi giorno a giorno, quindi perdiamo un po' di vista questa regolarità che leggiamo dal risultato finale, ma non sappiamo cosa ci sta dietro in termini di generazione dei numeri e cioè in termini di tamponi effettuati. Diciamo che sarebbe meglio averli, per dare un'interpretazione corretta ai dati. Così non è e quindi ci accontentiamo di incassare l'ottimo risultato di zero contagio. Per questo motivo io non vi propongo nemmeno oggi i grafici, perché sarebbero esattamente, praticamente identici a quelli del giorno prima, fatta salva la provincia che ha un incremento di due unità, ma aveva due unità come incremento anche ieri, aveva un solo incremento due giorni fa, quindi anche la provincia sta rallentando fortemente il suo iter di contagi. Quindi niente grafici per oggi, se non ve li faccio vedere più i grafici da qui alla fine del periodo 1, della fase 1, vuol dire che siamo rimasti, rimarremo ancora i prossimi giorni con questo numero molto confortante di contagi che per noi è pari a zero. Diciamo invece il dettaglio dell'andamento nazionale che mi pare sempre molto importante, positivi totali in Italia oggi 104.657, meno 548 rispetto a ieri, diminuzione dello 0,5%. Deceduti purtroppo sono sempre tanti, 27.682, sono 323 in più rispetto al giorno precedente, vedete che è proprio una guerra questa, ogni giorno muoiono 300-400 persone, quindi siamo dentro ancora a livello nazionale un turbine importante, forte, questo numero di decessi non ci lascia affatto tranquilli, continuano a crescere. Quindi abbiamo un incremento di decessi per coronavirus di 1,2%, i guariti sono in totale 71.252 con un incremento di 2.311 rispetto al giorno precedente. I casi totali in Italia, totali significa compresi i deceduti, compresi i guariti, è di 203.591, con un incremento rispetto al giorno precedente di 2.086 persone. I tamponi complessivamente effettuati in Italia oggi, questi sono i grandi numeri della protezione civile, sono 1.910.000 e spiccio. A proposito di guariti, i guariti della nostra città, oggi sono più 3, ma in realtà siccome ieri non ci sono stati dati giusti, io ieri vi ho dato sostanzialmente 32 guarigioni, che erano i 29 di ieri l'altro più 3, quindi vi ho dato 32 guariti ad Arezzo. Se io dovesse sommare a quei 32, i 3 di oggi andrei a 35. In realtà il numero totale dei guariti, con nomi e cognomi, è di 39 unità. Perché? Perché ieri saranno scordati di darci 4 guariti in più. Poco importa, non ci faccio polemica. Questa è la sarabanda dei dati che volano tra noi, l'azienda e la regione. Non importa, quello che importa è il numero totale. 39 guariti totali oggi nella nostra città. A proposito di numeri, giusto per dare la sensazione di questo non perfetto allineamento, io tengo una statistica giornaliera, tra quale è il numero totale di contagi nella nostra provincia da noi conosciuti e quelli che pubblica la regione, lo scordamento oggi è di 52 unità. Secondo noi, come vi ho detto prima, i contagiati provinciali sono 569, secondo la regione sono 621. C'è uno scostamento di 52 unità. Ora, questo, al di là della incertezza sui numeri, che ci dispiace dare rilevanza a queste discordanze, per me, sindaco, assume un ruolo fondamentale, di correggerlo, perché nella fase 2 il premier Conte ha detto con chiarezza, l'ha ripetuto anche ieri quando era a Genova all'inaugurazione, all'inaugurazione, al varo dell'ultima campata del ponte sul Polcevera, che nella seconda fase lui opererà un controllo nei vari territori. Ha parlato di rubinetti che si aprono e si chiudono e quindi se in un territorio i numeri non sono quelli che ci attendiamo, che debbano essere, quindi se i contagi aumentano, i contagi che aumentano lo vediamo dai numeri, lui richiude alcune attività che sbloccherà invece il 4 di maggio. Ora, se le attività devono essere sottoposte ad apertura e chiusura come i rubinetti, in funzione dei dati rispetto ai contagi, io esigo che i contagi siano esatti all'unità, non approssimati in qualche maniera. Quindi da qui al 4 di maggio ci sarà un lavoro di affinamento tra l'azienda, il comune, la regione, che mi auguro arriverà alla fine a definire un sistema di veicolazione delle informazioni univoco e non splittato in due come oggi. Anche se oggi a noi fa comodo che sia così, perché io vi do sempre i numeri riferiti agli stessi intervalli temporali e quindi le variazioni che vi do io sono variazioni vere rispetto al tempo, al di là di quello che è il numero totale. Detto questo e fatta l'opportuna precisazione per quello che riguarda i casi nazionali, farei passare, chiederei alla regia Marcello Comanducci, di farci passare il video del drone rispetto al quale faremo qualche commento sull'attività della Polizia Municipale in città in questa giornata, che si è caratterizzata da una prima parte decisamente piovosa e difficile per effettuare controlli, ma anche sicuramente che non ha incentivato le persone a uscire di casa, a un pomeriggio invece tutto sommato solatio e ben, diciamo, che ci ha reso possibile uscire di casa e fare quei due passi che invece ancora non possiamo fare. Allora, la Polizia Municipale oggi ha controllato 110 persone, quindi un numero molto elevato, controllando 102 autocertificazioni. Ricordo sempre che quando si esce di casa bisogna avere un motivo per poter uscire e bisogna dare una giustificazione alla propria presenza fuori dalle mura domestiche. Infatti sono state fatte due sanzioni, ma anche due denunce, due denunce, 17 contravvenzioni al codice della strada e sono stati trovati due veicoli senza assicurazione. Il totale delle sanzioni sale a 223, che era apportato ai 4.809 controlli, da una percentuale di infrazioni del 4,7%. Il drone, lo vedete in questa immagine, si è mosso nella zona della Marchionna, al Prato, nella zona di Trento Trieste, in Bianconetana, in Piazza Grande. È stato fatto un intervento a Campo di Marte per sedare e comunque per identificare e sanzionare una rissa tra extracomunitari. Purtroppo ho visto anche io il video, una cosa molto brutta, nel quale la polizia locale è intervenuta insieme alla polizia di Stato e ha fermato, identificato e sanzionato, credo anche denunciato, due persone. Sono stati controllati tre autobus di linea, due parrucchieri, quattro bar e tre farmacie e sei supermercati. Quindi c'è stato un controllo massiccio quest'oggi del territorio e sono stati effettuati, come vi avevo anticipato ieri, i tamponi allo stadio con il sistema drive-thru. Quindi la nostra polizia locale è fortemente impegnata. Io in questo momento faccio un ringraziamento particolare a tutti gli uomini e le donne della polizia municipale che in questi giorni non conoscono sosta, non conoscono tregua. Magari voi li vedete anche poco, perché giustamente siete in casa e non li vedete, ma vi garantisco che fanno un servizio puntuale. Non sono tantissimi, quindi non è facile a stare dietro a tutto e si muovono molto spesso quasi su chiamata, perché ci sono interventi di cittadini che riprendono fotografie, che mandano direttamente al comando, molti le mandano a me, io le rigiro al comando, che invia pattuglie motorizzate o in autovettura o più spesso, perché più agili, più veloci, con le motociclette. Non è un lavoro semplice quello che fanno i nostri vigili, ma è un lavoro assolutamente meritorio che io mi sento di ringraziare a nome di tutta la città. La segnalazione che mi viene, diciamo, generalmente dagli agenti della polizia locale è un maggior rispetto della distanza sociale. Le persone non temono troppo di stare vicine, c'è questa benedetta raccomandazione di stare a un metro e tanto l'uno dall'altro e soprattutto di indossare mascherie coprendo anche il naso, cosa che molti non fanno, perché siamo abituati da sempre a respirare col naso, questa patacchina davanti alla faccia ci dà fastidio e la abbassiamo. Non serve più a nulla, è inutile metterla. La dobbiamo mettere e tenere sopra il naso e la bocca. È un piccolo sacrificio che però porta risultati positivi. Allora, io direi a questo punto di introdurre il nostro ospite, che è il dottor Beccattini, che è il direttore del SERV, quindi del Servizio Disabilità della Azienda Sanitaria della nostra zona, il dottor Marco Beccattini, che io saluto. Buonasera, dottore. Buonasera, Silvio. L'ho invitato e lui ci ha dato disponibilità e lo ringrazio, perché, diciamo, ci può dare una visione organica di quelli che sono stati i problemi e di quello che è stato il modo di reazione, di supporto soprattutto dell'azienda, nei confronti di quelle famiglie che portano problemi riguardo alle dipendenze. E quindi, che cosa è avvenuto? Certo, questo stare in casa ha messo tutto in difficoltà, anche chi non ha mezzo problema. Chi ce l'ha, ha avuto un problema in più, forse anche una volta e mezzo in più, mi permetto di dire. Io faccio una premessa, misuro un po' sul mio metro. Ora, io non faccio testo perché io lavoro dalla mattina alla sera, quindi non ho mai la mente eccessivamente sgombra da attenzione, da pressione, quindi non rischio, come purtroppo può avvenire, fenomeni che potrebbero tendere alla depressione, anzi, delle due ho un'iperattività. Ma mi rendo conto che il problema dell'allontanamento da una realtà vissuta come tutti i giorni porta disagio anche a chi abitualmente non ne ha. Quindi mi immagino e concludo questo mio pistolotto, quello che può avvenire invece per chi ha disabilità o dipendenze di vario tipo. Dottore, ci dia una illuminazione su quello che è avvenuto nella nostra città in questi ultimi 50 giorni. Grazie. La ringrazio, Sindaco dell'Interesse, per queste persone, per questa parte della popolazione che, come lei diceva, soffre la minaccia, la minaccia pandemica, come una concreta condizione di inabilità e di sofferenza. ma subisce anche la privazione della libertà, la modificazione delle abitudini, di quel funzionamento quotidiano che è per tutti noi, come lei giustamente diceva, anche conferma delle proprie scelte adattative, è conferma del proprio funzionamento, è conferma delle proprie qualità. Questo specchiarsi nell'altro in attività il cui esito è atteso è venuto meno per tutti, in particolare per le persone fragili che avevano da questo una capacità di regolare il proprio stato emotivo. Sicuramente in salute mentale queste giornate hanno portato un incremento di disturbi d'ansia, un peggioramento degli stati depressivi, una tendenza all'isolamento, e nello specifico della clinica che io dirigo e che noi assistiamo nel servizio SED della provincia, in particolare di Arezzo, abbiamo visto un andamento bifasico di nuovi casi. Nelle prime tre settimane della pandemia, quando in qualche modo si cominciavano a determinare le chiusure, abbiamo avuto un incremento raddoppiato degli accessi al SED. che noi mediamente abbiamo circa 30 persone ogni mese che arrivano nuove ad aggiungersi alle persone già in carico, ecco, ne abbiamo avute 30 nei primi 15 giorni, senza contare i reingressi, cioè le persone sia allontanate che sono tornate per l'acuirsi delle condizioni di dipendenza. Questo probabilmente ha coinciso con un controllo maggiore delle strade, che ha fatto sì che si bloccassero i rifornimenti di sostanze, e quindi ci fossero degli stati di astinenza, ma ha anche fatto sì che emergesse uno stato di precarietà, e quindi un bisogno di aiuto, un incremento della domanda. Poi c'è stata una diminuzione importante, che peraltro per il gioco non si è risolta, siamo ancora in una affluenza fortemente ridotta rispetto al dimestre dello scorso anno e di riferimento, probabilmente ancora coincidente con il fatto che fino all'altro ieri le occasioni di gioco siano sostanzialmente ridotte, fino ad essere interdette, perché le norme di distanziamento sociale ne consigliavano interdizione definitiva. Mi riferisco non solo alle slot machine, che sono prevalentemente negli esercizi di bar ora chiusi, o nelle videolotteri, ma anche delle lotterie istantanee, quelle per cui giocando si deve stare a aspettare l'esito della giocata in estrazioni subentranti. Questa cessazione del gioco, di occasioni di gioco, probabilmente ha fatto sì che le persone percepissero meno grave o risolta la propria condizione, e questo è una delle spiegazioni che noi diamo, anche se attendiamo uno spostamento verso il gioco virtuale, verso il gioco online, che è assolutamente più pericoloso dell'altro, perché non hanno interdizione, potendo giocare direttamente alla carta di credito e ai depositi bancari, fa sì che il giocatore non abbia nemmeno l'occasione di fermarsi per andare a prendere i soldi, o abbia l'ausilio del gestore, che molto spesso lo aiuta anche a smettere di giocare, e gli dà comunque degli spunti di riflessione, quindi il contatto con altri avventori possono essere occasioni che finalmente permettono a queste persone di percepire la perdita di controllo del tempo, più che altro del denaro giocato. Ma riguardo alle sostanze, è accaduto, dicevo, dopo questa prima grande impennata, che abbiamo avuto una forte riduzione. Questo non ha fatto seguito a una riduzione del servizio che è rimasto aperto in maniera invariata, non siamo mai venuti meno al tentativo di accogliere i nuovi giunti, anzi abbiamo aumentato i richiami sulle persone vulnerabili, abbiamo esplorato i follow-up per capire le loro condizioni, ma di fatto le persone probabilmente hanno paura, hanno paura di uscire, hanno paura di venire al servizio, hanno in questo momento ridotto la domanda. È possibile però anche che sia ripreso in maniera nascosta, in maniera furba, in maniera agile, il traffico di sostanze, che come tante altre cose rischia di venire portato direttamente a casa. Già era prima una tendenza della consegna a domicilio vera, adesso dubitiamo che possa essere una delle reazioni delle narcomafie anche locali. Sicuramente stiamo per affrontare una fase estremamente delicata. Le persone soffrono la perdita di libertà, soffrono l'allontanamento dai propri costumi, dai propri abitudini, soffrono fortissimamente l'allontanamento, penso ai giovanissimi, dalla scuola, dall'occasione di rinforzo e di contatto col gruppo, ma sono stati anche interrotti nel loro percorso di abilitazione, di formazione, e non sappiamo bene e dobbiamo invece saperlo come ripartirà tutto questo. Perché sicuramente l'insicurezza è nemica della salute. Tutti quanti abbiamo bisogno di riferimenti certi, per questo le nostre abitudini ci sono care e adesso interdette ci fanno soffrire. Adesso che ripartiamo abbiamo tutti quanti l'aspirazione a vedere riconfermate le nostre antiche abitudini. Questo non sarà possibile, perché se da un lato tutti noi abbiamo diritto e voglia di ritornare al godimento pieno delle nostre libertà, dobbiamo fare i conti con una minaccia di focolai che si ripristilleranno se noi non rispetteremo il distanziamento sociale, se noi non rispetteremo la norma di indossare le mascherine, di lavarci bene le mani in maniera estremamente responsabile informare il medico curante di sintomi e di fatto prendere molto sul serio le indicazioni sanitarie che ci vengono date. Per cui noi ci troveremo a bilanciare queste due condizioni. Certamente è importante che tutti quanti le istituzioni per le parti sociali, per il distino dei percorsi di normalità e viene in mente pensiamo alle difficoltà economiche di tante famiglie. Pensate alla difficoltà che hanno delle persone fragili, che hanno difficoltà relazionali, che hanno difficoltà a gestire la propria impulsività, che sono appesantite da un uso pregresso di sostanze, la difficoltà che hanno a collocarsi al lavoro, un lavoro che adesso manca alle persone che sono meglio inseribili, che hanno abilitazioni, che hanno capacità professionali più alti. Pensate a quanto sia gravoso per chi contava sul lavoro avventiziale, sul lavoro stagionale, sul lavoro bracciantile, tutto ciò che in qualche modo sappiamo si espande, si contrae con tutte le condizioni di crisi, pensiamo a quanta difficoltà queste persone vivono. Allora, alle associazioni datoriali, oltre che alle istituzioni, dobbiamo chiedere veramente una mano, una mano responsabile, che alimenti e protegga la sicurezza sociale, che è anche l'inclusione delle persone svantaggiate. L'altra parte è quella di pensare come riprendere delle forme di socializzazione. Dobbiamo, da un lato, sempre tenere presenti i rischi di contagio, che continueranno ad essere drammaticamente veri e quei rubinetti dovremmo effettivamente chiuderli se dovessimo tornare a quella situazione di rischio, ma dobbiamo anche riaprire responsabilmente. Ecco, per tutto questo ci deve essere un patto di alleanza forte, con i cittadini che devono essere prudenti, con le istituzioni che devono riaprire e creare nuove occasioni di inserimento lavorativo, di inserimento culturale, ricreazionale, per rifrequentare in maniera protetta i parchi, i luoghi pubblici e con la sanità che deve attrezzarsi anche innovando. In questo momento stiamo sperimentando televisite, psicoterapia al telefono, cose che soltanto a qualche amministratore ci sembravano impossibili e adesso le troviamo anche per esempio nella dimensione gruppale, stiamo costruendo delle piattaforme dove le persone possono finalmente incontrarsi e riprendere una orientazione gruppale per sostegno che è il gruppo di persone di automutuo aiuto che facevamo al SET, che facevano le associazioni di automutuo aiuto, ecco, lo stiamo sostenendo in maniera innovativa, però dobbiamo veramente tutti quanti fare la nostra parte, noi come sanità, le istituzioni creando nuovi percorsi il cittadino impegnandosi in una responsabilità che è protezione individuale e collettiva. Grazie dottore, la sua analisi veramente puntuale, appassionata, ci dà uno spaccato delle debolezze, delle fragilità che un pochino ci spaventa, perché io credo che questa nostra reazione positiva, perché alla fine poi la nostra città lo vede, ha un numero di contagi relativamente modesto, si è sostanzialmente stabilizzata, altrettanto ha fatto la provincia dopo le uscite numericamente significative delle RSA varie che hanno avuto problemi per gestioni iniziali non sufficientemente protette, sta andando verso un percorso di smorzamento a zero dei contagi. Lei giustamente dice dobbiamo pensare a come ripartire, perché è chiaro che dal 4 di maggio qualcosa deve cambiare e deve cambiare sicuramente per il cittadino, ma soprattutto per quella parte di cittadini che sono molti che vogliono tornare a lavorare. Quindi io mi permetto di dire, poi mi dirà lei se è d'accordo o meno, che lei ha parlato giustamente di patto. Bisogna che il cittadino si renda conto che ancora siamo dentro il problema e che quindi mantenendo la distanza sociale, portando sistematicamente la mascherina, lavandosi periodicamente le mani, mette in atto le più importanti metodiche per tenere il virus lontano anche se lui è impegnato in un'attività lavorativa perché poi alla fine si diceva scherzando una volta il lavoro nobilita l'uomo ma è proprio vero che lo nobilita nel senso che gli dà tutta una serie di motivazioni. Che ne pensi? Assolutamente sì. Il diritto individuale a fare quello che si pensa giusto, quello che si sceglie giusto deve trovare misura nella protezione ancora individuale perché innanzitutto con questi accorgimenti con queste prudenze che sono appunto l'igiene delle mani che sono indossare la mascherina che sono distanziarsi dagli altri noi salviamo noi stessi e i nostri cari non portiamo a casa gli uditi questo è molto importante ma poi ci preoccupiamo anche di non diffondere ad altri dai nostri vestiti che dobbiamo tenere in ordine specialmente quando ci preghiamo al lavoro dobbiamo averne cura perché una quarantena qualora ci coinvolgesse nel luogo di lavoro è danno per quel lavoro per quell'attività questo è il patto di responsabilità ma è anche il patto di responsabilità e di inclusione verso le persone svantaggiate possiamo e dobbiamo avviare una concertazione tra enti tra sanità ma anche tra associazioni datoriali tra il mondo del lavoro e tutto quanto tra le associazioni che conoscono benissimo il problema e ci consigliano come affrontare dal di dentro le condizioni dobbiamo prenderci la responsabilità di creare delle condizioni di economia sostenibile a favore in modo particolare delle categorie più deboli pensiamo a una consegna porta a porta delle merci dei pasti quanto potrebbe un'associazione della disabilità mentale o anche della disabilità fisica concorrere in questo a fianco dei bisogni dell'anziano a fianco dei bisogni degli altri disabili ecco favoriamo la occupazione anche e non solo a livello di volontariato ma anche effettivamente con riconoscimenti economici di tutte le persone che hanno altrimenti un'esclusione da questa fase difficile e anche duratura della ripresa sociale grazie ringrazio di questo suo intervento che sicuramente ci ha dato uno spaccato importante per la nostra città ma anche diciamo una parola di conforto nel senso che lei ci ha dato delle metodiche e ci ha dato delle raccomandazioni che tutti i cittadini hanno potuto quelli che ci stanno seguendo hanno potuto sentire seguire e sulle quali si potranno impegnare quindi un'ultima cosa posso aggiungere una cosa invitando tutte le persone che avessero difficoltà a non rimanere sole possono venire ai servizi di salute mentale ai set per i problemi specifici nei supermercati una cosa che manca non è soltanto l'alcol per disinfettare ma anche l'alcol da bere e questo mi preoccupa molto perché avremo un rimbalzo della crisi anche nelle fasi avanzate del recupero e della normalizzazione che sarà quello indotto dai comportamenti che generiamo ora c'è un rischio covid ma continua a esserci un rischio della sofferenza se avete difficoltà chiamateci i nostri numeri sono sempre aperti li trovate tranquillamente al centrino della US venite a trovarci rispettando il distanziamento e prendendo appuntamento perché si possa accogliere tutti grazie dottor Beccattini buon lavoro arrivederci grazie allora continuiamo con una brevissima due brevissime comunicazioni anzi una comunicazione e un ringraziamento la comunicazione è che sono convocati per i prossimi giorni già uno domani i gruppi di lavoro che l'amministrazione comunale ha voluto istituire per finalizzare l'azione amministrativa riguardante il sostegno di vari soggetti socialmente rilevanti nella nostra città un primo gruppo di lavoro è legato alle attività produttive dove ci sarà l'assessore alle attività produttive l'assessore al bilancio il sindaco le associazioni di categoria varie alcuni consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione per valutare insieme come destinare le risorse che l'amministrazione sta raggranellando e mettendo in piedi tenete conto ora io dico un numero spero di non essere smentito perché stiamo lavorando tutti i giorni su questo per adesso a livello di giunta ma da domani si apre al mondo e si apre anche alla politica in senso più lato noi faremo una manovra che starà tra il milione e mezzo e i due milioni di euro manovra complessivamente forse più vicino ai due milioni che non al milione e mezzo che l'amministrazione in questo momento mette in gioco per sostenere da un lato le attività produttive che dobbiamo fare le cose per bene dobbiamo dare a chi realmente ha più bisogno nel senso che ha subito più danno e poi il secondo tavolo di lavoro che riguarda la famiglia l'educazione e lo sport perché anche in questi temi occorre lavorare occorre dare supporto a chi si impegna ed ha già subito ingenti perdite e infine il terzo per quello che riguarda la coesione sociale una manovra voglio sottolineare mi piace dirlo che non è un sasso in piccionaia cioè quando l'amministrazione dice che mette in pista due milioni di euro dice che ci sono due milioni veri non come ho sentito in altre realtà che non cito si buttano là numeri queste non sono ipotesi queste sono realtà alle quali siamo arrivati lavorando in maniera opportuna per smagrire il sistema di uscite del comune verso alcuni temi per dirottarle su quelli che oggi sono la necessità di oggi perché se è vero che noi dobbiamo continuare a vivere il momento topico per salvare la vita è questo e quindi in questo momento dobbiamo mettere le risorse necessarie il secondo che non è più una informazione ma è un ringraziamento e alla ditta Petrarca Confezioni per la donazione di mille mascherine alla nostra polizia locale io ho finito chiamerei in studio Barbara Bianconi per le domande dei giornalisti sì eccoci eccoci sindaco sì c'è qualche domanda anche questa sera la prima riassumo e riunisco la domanda di due giornalisti Giulio Cirinei Arezzo Ora e Gino Pertica e Ortica perché l'argomento della domanda è lo stesso ossia l'ordinanza numero 45 firmata oggi dal governatore Rossi che autorizza di fatto passeggiate all'aria aperta o in bicicletta ne avevamo anche un po' anticipato ieri purché si resti all'interno del comune di residenza autorizza ad uscire insieme i conviventi i genitori con i figli minori o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti insomma ci sono alcune caratteristiche descritte più puntualmente in questa ordinanza allora Perticai chiede quali sono le disposizioni nel nostro comune Cirinei chiede di spiegare chi può uscire e in particolare chiede nucleo familiare se può uscire possono uscire tutti insieme se si può spostare ovunque all'interno del comune e se è concesso è permessa prendere l'auto per spostarsi da un posto all'altro per poi andare a fare una passeggiata in un luogo anche fuori in comune nel limitro o lignano o un altro poti quello che sia allora allora come le sue ordinanze di oggi e stasera alle 18.30 c'era una conferenza c'era la solita riunione che il presidente Rossi ha convocato per discutere di questo e dare le chiavi di lettura della sua ordinanza al direttivo di Anci Toscana di cui faccio parte quindi ero invitato ma non ci sono potuto andare perché alle 18.30 ero qui con voi io al momento non voglio dare risposte sommarie o approssimate questa domanda la teniamo buona per domani domani vi darò risposta puntualmente al momento non conoscendo nei dettagli non avendo potuto assistere a questa diciamo chiacchierata del presidente Rossi non ho elementi da potervi dare rispetto a quelli che sono già contenuti in ordinanza quindi rimando la risposta a questo a domani ho poi la domanda Sara Polvani Corriere di Arezzo chiede se è prevista o si prevede lei apposite ordinanze per eventuali aperture anticipate di alcuni esercizi commerciali allora anche questo sarà indirettamente motivo di approfondimento domani mattina alle 11 con la prima riunione con le categorie economiche mi verrebbe da dire di sì però c'è da valutare come e perché mi verrebbe da dire di sì perché la pressione rispetto alla chiusura che si sta determinando in molte attività è l'ho un po' accennato anche ieri assolutamente insopportabile questa mattina sono venuti da me in maniera simbolica due erano due persone sono rimaste a distanza hanno portato la mascherina sono due esercenti di due ristoranti che mi hanno portato simbolicamente le chiavi di circa 150 pubblici esercizi portare le chiavi al sindaco significa dare un significato ad una protesta che ha come sottofondo quello della difficoltà economica per cui abbiamo fatto due chiacchiere ma molto rapidamente io ho accettato queste chiavi sono qui e quindi loro non hanno fatto altro che significare sottolineare l'esistenza di un problema che peraltro non è che ci sfugge il tema così come posto da loro è secondo me difficilmente accettabile nel senso che mi si dice ma se una persona marito e moglie vanno a fare una cena anzitutto li dobbiamo mettere a distanza di sicurezza quando poi sapete benissimo che vanno a casa insieme vanno anche a letto insieme e quindi è un po' una una provvedimento ultroneo quello di consentire la distanza e anche su questo interverremo opportunamente ma la seconda cosa che è più importante mi dicono ma se io poi vado a servirli con la mascherina i guanti la cuffia sui capelli e magari anche una una vestaglia un grembiule che igienizza anche gli indumenti dice la voglia di rimanere a cena è bella e passata io gli ho detto ma veramente anche no nel senso che noi apprezziamo le pietanze di questi di questi pubblici esercizi non molto meno la forma con cui ci viene propinata ovviamente in un periodo come questo io oggi sentivo da Venezia uno storico ristoratore che molti italiani conoscono che è Cipriani che diceva ma la gente non ha capito che se viene a pranzo da noi fa sicuramente meglio che non farsi le cene a casa perché a casa non hai il controllo dell'igiene così come un ristorante può e deve avere questo mi dà come stimolo la proposizione del tema nei confronti dei pubblici esercizi quindi vediamo se riusciamo a trovare la forma giusta col distanziamento con l'igiene con le superfici trattate da poter considerare con un sistema di apertura diverso l'altro tema è quello dei negozi e il tema più importante è quello delle sanificazioni e quindi anche su questo occorre un approfondimento di tipo tecnico io mi sono fatto mandare vari tipi di macchinario che inseriti in un ambiente di varia metratura ogni due ore possono in assenza di persone essere accesi e in pochi minuti si parla di una decina 15 minuti sanificare sanificare aria e superficie ci sono vari metodi per farlo un tipo chimico di tipo chimico e fisico bene se ci si riesce a dotare magari anche con l'aiuto dell'amministrazione i negozi di questo forse i negozi possono aprire cioè non vedo la necessità tassativa di mantenere vista la scarsa presenza del virus nella nostra città chiusure diciamo apodittiche di questo tipo però bisogna ragionarle bisogna approfondire bisogna trovare la giusta medicina per la corretta malattia cosa vuol dire vuol dire le sanificazioni le distanze le mascherine continueranno a convivere con noi ma se impariamo a usarle bene probabilmente ci salvano anche la vita in termini economici un'ultima domanda da Greta Settimelli a Rezzo TV chiede un suo commento su quanto accaduto questa mattina a Campomarte che peraltro lei ha già accennato parlando dell'attività della Polizia Municipale i cittadini chiedono un intervento forte delle forze dell'ordine e delle autorità in primis proprio quella del SIG allora io ho visto queste immagini e ne sono rimasto disgustato per la violenza che vi si è potuta leggere che non è giusto che una città pacifica e tranquilla come Arezzo abbia luogo e secondo perché chi perpetrava questa violenza non aveva la mascherina cioè purtroppo gli estracomunitari sono hanno preso stabitudine di andare in giro molti di loro non tutti per fortuna di andare in giro senza mascherina io ho già dato indicazione alla Polizia Municipale e rinforzerò la dose su questo tipo di arroganza di comportamento non ci sono scuse ma non perché sono estracomunitari perché non ci sono scuse per nessuno e quindi dobbiamo agire sempre con continuità e con determinazione io dico che alla lunga poi le persone capiscono perché le vecchie una volta le vecchie un'altra volta alla fine si stancheranno di avere un comportamento che non è conforme a quello che la legge il buonsenso e la necessità del momento ci impone quindi la Polizia sa già quello che deve fare lo farà con più solerzia io ho ringraziato prima per il lavoro li ringrazio e gli auguro buon lavoro perché in realtà il problema è quello che abbiamo davanti io ve l'ho sempre detto fino oggi tra virgolette abbiamo scherzato che noi avessimo due contagio duecento le chiusure quelle rimanevano dal 4 di maggio non è più così se noi manteniamo il livello di contagio basso continueremo a tenere aperto e forse ad aprire ulteriormente se il contagio riparte ci fanno richiudere e dopo voglia i cazzotti del sindaco sul tavolino e si tiene chiuso dopo è un problema quindi non mettetevi in condizioni e non mettiamoci in condizioni di dover recedere sulle aperture i rubinetti a Conte facciamogli tenere aperti non ci sono altre domande questa sera sindaco grazie grazie allora concludiamo siamo un po' in ritardo ma concludo con la solita battuta che oggi è ancora più importante avete sentito quello che ci ha detto il dottor Becattini circa i disagi ci sono tante persone a disagio forse da questa consapevolezza che lavorando insieme avremo successo deriverà veramente la capacità di vincere e quindi stando insieme con la testa ma non con il fisico vi assicuro che ce la faremo che ce la faremo che ce la faremo che ce la faremo è vincere